L'evento organizzato oggi dalla FISASCAT che è la federazione del terziario del turismo dei servizi insieme alla FIS che è la federazione italiana del terziario della CISL ha un significato particolare che è quello di cercare di sviluppare l'attenzione di tutti legando il turismo al settore dello sport e in particolare al ciclismo. Ringraziamo il comune di San Lorenzo al Mare che ci ospita e che è uno degli attori principali di questo memorabile evento di grande richiamo internazionale sportivo. Ringraziamo in particolare il sindaco Paolo Tornatore, la Giunta e il Consiglio Comunale di San Lorenzo al Mare. I nostri ringraziamenti sono rivolti anche ai relatori, agli ospiti e dalle autorità presenti. L'occasione di oggi ci consente di riaffrontare un tema che già avevamo affrontato nel 2000 quando si sviluppò l'iniziativa, la prima iniziativa realizzata in questo territorio per la creazione della pista ciclabile. All'epoca si progettò questa opera che fu realizzata negli anni successive e noi già eravamo presenti, siamo fieri di aver partecipato a quell'occasione come siamo fieri di partecipare oggi per lanciare questa nuova proposta di un turismo sempre più legato allo sport, al ciclismo e alle varie opportunità di crescita che nel nostro Paese ci sono. Per quanto riguarda il ciclismo nel mondo ci si sta occupando proprio di questa nuova opportunità delle piste ciclabili. Per esempio in Olanda si progettano già piste ciclabili bioluminescenti come quadri futuristi, riteniamo ora utile far riferimento ad esempi già citati allora e che ribadiamo per spiegare come una località come il Ponente Ligure può attestarsi come una delle aree del Mediterraneo in grado di sviluppare il binomio turismo-ciclismo. Il turismo è un settore labor intensivo nel quale proprio il lavoro, la mano d'opera ricopre uno dei ruoli principali. A differenza dei settori manifatturieri il turismo vende sensazioni, vende un prodotto che soprattutto si basa sulla capacità di poter ricordare con piacere una località nella quale si è fatto turismo. Vendere servizi, sensazioni e benessere è forse più difficile che vendere un prodotto materialmente definito, anche perché la competizione del prodotto turismo è talmente globale che non esistono virtualmente confini per fare turismo. Basti pensare che molti dei paesi ritenuti paesi in via di sviluppo sono degli importantissimi competitors nel turismo. L'ambiente e il territorio, mentre per il settore manifatturiero sono un ambito dove produrre, per l'economia turistica, sono invece due fattori fondamentali ed un bene primario per lo sviluppo e la sostenibilità del turismo. Il turismo non può essere però avulso da una politica territoriale nel turismo. La politica territoriale del turismo riveste un'importanza fondamentale per poter sviluppare questo prodotto. In Italia il turismo nonostante la crisi rappresenta il 12% del prodotto interno lordo ed occupa più di un milione di persone. Di questi 250 mila sono i lavoratori stagionali, quindi una grande realtà occupazionale per il nostro paese. Programmare crescita turistica significa programmare investimenti in infrastrutture, porti, aeroporti, ferrovia, autostrade, ponti, tutto ciò che rende facile raggiungere o può rendere gradevole il soggiorno. In futuro ci dovremo abituare a far dialogare i sistemi contrattuali molto di più con il mondo che ci circonda e ad affrontare temi importantissimi quali ad esempio quello della destagionalizzazione del turismo. Un altro tema caratteristico è quello della occupabilità dei lavoratori nel settore e questo tema richiama un concetto molto importante secondo noi che è quello della formazione e della formazione continua degli addetti del settore per garantire più qualità alle prestazioni del turismo nel nostro paese. Per garantire l'occupabilità e quindi l'occupazione occorrerà a pieno valutare le nuove opportunità fornite dalla formazione continua con i fondi interprofessionali che dovranno essere utilizzati al meglio con un forte ruolo sia delle parti sociali che della bilateralità. Il turismo rappresenta una grande opportunità di crescita per tutti e noi siamo convinti che ad esempio nel bacino del Mediterraneo nei prossimi anni si identificheranno sempre più delle aree specifiche nelle quali sarà possibile sviluppare questo grande prodotto turistico. Turismo, sport e ambiente sono intrinsecamente depositari e simboli di valori positivi, rappresentano un triangolo vincente a prescindere dal target a cui si riferiscono. Per fare un esempio la classica del campionato del mondo di ciclismo Milano-Sanremo attira circa 25 squadre e oltre 200 professionisti. Ogni anno viene trasmessa in diretta in 53 paesi del continente. Sul percorso quasi un milione di appassionati seguono l'evento. Il turismo sportivo per sua natura possiede enormi potenzialità per lo sviluppo non solo economico ma anche socio-culturale. Tra i temi dello sviluppo del turismo noi identifichiamo anche in particolare quello del turismo che si sviluppa anche attraverso le occasioni fornite dallo sport. Questo concetto fu sviluppato già qualche anno fa, ma anche moltissimi anni fa, quando il turismo di fatto fu legato anche alle prime Olimpiadi qualche millennio fa. Sarà necessario riprendere questo concetto sempre più del turismo legato anche allo sport, agli eventi sportivi, come in questo caso al ciclismo. Questo territorio occorre dire che già nel secolo scorso, all'inizio del secolo scorso, nell'epoca Liberty fu frequentato dai primi turisti che riuscivano a muoversi soprattutto in quei pochi luoghi al mondo nei quali si riusciva a fare il turismo. Ebbene, questo territorio deve esprimersi ancora per sviluppare questa grande vocazione turistica. In quell'epoca nacque anche la casa da gioco di Sanremo, nacquero delle attrazioni importanti per quest'area che fecero la differenza rispetto ad altre aree del paese e che svilupparono un turismo sempre più di qualità in questi ultimi decenni. Importante per la competitività del territorio è anche la questione del clima. In questa area il clima ha una situazione molto particolare, un microclima assolutamente favorevole anche alle manifestazioni sportive e soprattutto per il turismo. Il mare d'inverno è una frase, un verso di una poesia, sarebbe di una canzone ma di una poesia, è un concetto che il pensiero non considera. Perché? Perché d'inverno non si può fare il bagno, ma a parte questo si può fare qualunque altra cosa, anzi la si fa meglio perché c'è meno gente. Non è solo l'inverno, anche la primavera, anche l'autunno. Ci sono delle zone del mondo in cui questo viene un po' meglio e la Liguria è una di queste perché sappiamo che è protetta in parte dalle Alpi, in parte dagli Appennini e quindi quello che anche in altre zone di mare avviene, sull'Adriatico per esempio, le irruzioni di aria fredda, siveriana, che abbassano le medie. Se andiamo a fare dei confronti, le medie della Liguria anche d'inverno sono leggermente più alte e d'altra parte è una di quelle zone come la Costa Azzurra che è la sede di villeggiatura anche delle persone anziane, dei pensionati, perché il clima aiuta, non fa mai troppo freddo, a volte fa freddo. Non ci nascondiamo che il cambiamento climatico, il riscaldamento globale non significa che fa più caldo ovunque, significa che il clima diventa irregolare, fa molto caldo, può fare molto freddo, l'abbiamo visto qualche anno fa, i fenomeni estremi non risparmiano la Liguria ma non risparmiano nessun'altra parte del mondo perché è un problema con cui abbiamo necessariamente a che fare. Però andare in vacanza, chi può, fuori stagione, credo che sia un'idea veramente geniale. Parlavamo prima di destagionalizzazione, la destagionalizzazione per i vari fattori da quelli climatici agli altri che abbiamo trattato è una opportunità che assolutamente bisogna cercare di seguire nei prossimi tempi. Noi spesso facciamo l'esempio di Cipro, Cipro è un'area del Mediterraneo che più o meno è alla nostra latitudine che ha saputo sviluppare attraverso un clima favorevole anche un meccanismo di destagionalizzazione, attraendo sul proprio territorio anche le opportunità del turismo compreso il turismo legato al ciclismo. Altre località nel Mediterraneo hanno utilizzato il clima e la possibile destagionalizzazione come ad esempio è il caso delle Baleari. Le Baleari attraverso una serie di iniziative sviluppate a partire dal comune di Calvià sono riuscite a sviluppare la possibilità di destagionalizzare il turismo proprio attraverso anche una serie di iniziative che hanno consentito di lavorare su tutto l'arco dell'anno. Anche le iniziative che sono state svolte, sollecitate anche più volte dalla Fisascate e dalla Cisle in questo territorio per quanto riguarda la nautica da di porto hanno consentito di sviluppare un periodo di turismo che sia sempre più allargato durante l'anno e questa è una delle strategie vincenti che occorrerà seguire anche in futuro. La vocazione turistica è sicuramente quella sulla quale puntare per i prossimi decenni per sviluppare quest'area, ma per sviluppare anche il nostro paese in genere. Secondo noi occorre scegliere oggi per le strategie di domani, scegliere oggi significa proprio in questo periodo che è il periodo nel quale l'Italia si presenta all'esterno, con l'Expo, con il Giubileo. È necessario sviluppare nuove iniziative come quella che si sta sviluppando ora, legando il turismo allo sport, al ciclismo che possono consentire di sviluppare il turismo nel nostro paese. Questa è un'economia competitiva che potrà fornire nuove opportunità all'economia italiana, nuove opportunità all'occupazione, nuove opportunità ai giovani per avere un lavoro e per poter competere in termini globali nel mondo con il nostro prodotto principale che è quello del turismo.